Buongiorno! Oggi c'è finalmente l'estrazione del giveaway che ho fatto sulla collana, gli orecchini e le candele di Yankee Candle. Utilizzerò il sito non random.org perché mi avrebbe estratto un numero a caso e io avrei dovuto contare tra tutti i commenti che ci sono. Quindi ho trovato un sito che proprio sorteggerà una persona. Quindi adesso vi farò vedere in diretta così che magari non pensiate che abbia scelto qualcosa, insomma vi faccio vedere tipo live, vi faccio vedere live chi sarà la vincitrice. Allora questo è il sito, io adesso devo prendere il coso, questo robo, copiarlo, incollarlo qui, giusto, sì, spero di sì, vincitrice, basta, vado. Mary Morelli ha vinto il giveaway! Mi raccomando contattami al più presto possibile così che io ti possa, cioè insomma ci possiamo scambiare le varie informazioni per poterti mandare le cosine. Faccio vedere un'altra volta il nome così che rimanga ben impresso, Mary Morelli, Mary Morelli. E il suo commento è stato, partecipo al tuo fantastico giveaway, ogni volta che ti vedo mi fai venire un senso di bo, non so, calma e tranquillità, baci. Quindi niente, io sono contentissima di aver fatto questo giveaway, sono anche contenta che vi sia piaciuto e sono contenta per te Mary, mi dispiace appunto per le altre, ma insomma ce ne saranno tanti altri di giveaway, non vi preoccupate. Io adesso vi mando un grosso bacio e mi raccomando Mary iscrivimi al più presto e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!